Siamo in pista Ludovica Nivella che ci presenta sei forte. A seguire avremo la novantadue, la centotrenta e l'ottantadue. Anche per Ludovica posizione. Un attimo solo. Musica. Sei forte perché sai cadere bene. Cadi e ti spacchi tutta. Ma in giorni no, non ti si rompono mai. A loro ho insegnato come atterrare sempre in piedi. Sei forte perché crolli, ti spezzi, ti frani, ti sfumi, ti pieghi, ti consumi, ma non molli mai la presa. Sei forte perché insegna gli attimi insegni a accogliersi da sé, insegni a riconoscere momenti giusti e momenti sbagliati. Insegni in un istante, agli istanti, gli istanti da prendere. E quando il mondo non è divertente, tu trovi sempre un modo per divertire il mondo. Sei forte perché quello che gli altri chiamano precipitare, tu lo chiami volo. E quando il mondo ti casca addosso in mille pezzi, tu in silenzio ricomponi tutto e riprendi a camminare, piedi per terra, testa fra le nuvole. Dubovina Sei forte perché sai fare tutto benissimo da sola Molto bene, grazie anche a Ludovica con il numero 60